Durante il palinsasso della città delle donne parleremo anche di lavoro, parleremo di tutte quelle donne che hanno scelto Milano come città in cui esprimere la propria aspirazione e metteremo sul palco alcune rappresentanti dei cavalli di battaglia del Made in Italy, la ricerca scientifica, il design e la moda. Avremo donne da diversi continenti che ci racconteranno perché a Milano hanno potuto realizzare quello che desideravano per la propria carriera professionale e perché questa città è ancora una meta imprescindibile per l'eccellenza internazionale. La città delle donne non si ferma, rimandiamo ma rimaniamo. Continuate a seguirci sui canali social.